Imprenditori, associazioni di categoria, sindacati, su versanti diversi è trasversale il timore che l'obbligo del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro possa scatenare un caos. Secondo la CGL regionale, che si è sempre dichiarata a favore dell'obbligo vaccinale, è compito delle imprese e delle istituzioni, a partire dalla regione, trovare una soluzione che eviti la doppia beffa con migliaia di persone che non sarebbero in grado di lavorare e migliaia di imprese in difficoltà a garantire la continuità produttiva. Premesso che la via maestra è quella del vaccino, anche secondo la CISL, dovere e responsabilità del servizio pubblico, consentire in presenza di regole certe efficienza dei servizi che eroga, incluso quello dei tamponi, a chi ne farà richiesta. Così il segretario di Treviso Belluno, Massimiliano Paglini. E sulla questione interviene oggi anche la CNA del Veneto. Grazie alla campagna vaccinale, commenta il presidente De Coll, l'economia del territorio è ripartita, si prospettano problemi organizzativi nei controlli del Green Pass, soprattutto per i lavoratori fuori sede. È necessario, continua, proseguire con l'opera di rassicurazione sui vaccini e aumentare le convenzioni con i punti tampone. Altro problema, sottolineato dagli imprenditori, è quello della privacy, che non consentendo al datore di lavoro di conoscere la data di scadenza del Green Pass del proprio collaboratore, costringe al controllo quotidiano di tutti i dipendenti. Sulla questione interviene l'ex capo della procura di Treviso. Se il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la salute dei propri collaboratori, evidentemente questo è un obbligo che gli ha, deve attuare i dovuti controlli. Ora, questi dovuti controlli possono avvenire alla porta e all'entrata, ma sono costosi, come lei sta osservando e come lamentano molti datori di lavoro. Quindi quale potrebbe essere una soluzione, senza violare il diritto di nessuno? Chiedere semplicemente a coloro che acconsentano a dirlo, quando scade il tuo certificato, il tuo Green Pass, se me lo dici spontaneamente, troviamo entrambi un vantaggio. Per quelli che dicono che ritengono di tutelare non so bene che cosa e che non vogliono sottoporsi o meglio dichiarare la scadenza della propria certificazione, cosa si attuerà? Si attuerà quel doveroso controllo all'ingresso che evidentemente è imposto dalla stessa normativa.